salvi amici bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale nei filmati di oggi vedrai cose che non hai mai visto prima prima di iniziare voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo video mostra l'apparizione dello spirito di un bambino che si manifesta in questo edificio abbandonato dove un tempo veniva svolto un mercato il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato che è il suo gar che è il suo gar che è il suo gar il video seguente mostra a questi due bambini mentre guardano tranquillamente seduti sul divano un film dell'orrore sembra tutto tranquillo finché ad un certo punto incominciano ad accadere delle cose davvero strane il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato è stato filmato è stato filmato questo filmato è stato caricato su tik tok e mostra questo ragazzo mentre gioca con degli occhiali virtuali il filmato è stato registrato da una telecamera di sicurezza installata in quella stanza il video oltre a mostrare il ragazzo che sta giocando riprende quello che sembra essere lo spirito di un bambino il filmato ha dell'incredibile questo è ciò che è stato ripreso è stato filmato è stato filmato il video seguente mostra quello che sembra essere lo spirito di una donna che piange e urla per la strada in piena notte il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato il video è stato filmato il prossimo video è stato catturato da una telecamera di sicurezza vicino un centro commerciale il filmato mostra questa ragazza che all'improvviso incomincia ad arrampicarsi in modo innaturale vicino a questo muro il video è stato filmato l'ultimo filmato è stato ripreso da due guardie di sicurezza di una metropolitana le due guardie durante il loro turno sentono la voce di una bambina urlare chiamare il padre a quel punto vanno a controllare ma dopo aver controllato dappertutto sembra che della bambina non ci sia nessuna traccia il video ha dell'incredibile questo è ciò che è stato filmato Andes Andes Siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao 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 Ciao